Controllare ma direi proprio che siamo in diretta Mi è arrivata la notifica perché? Aspettate che chiudo YouTube Vediamo eh, mi è arrivata la notifica Oh yes, eccoci qua Perfetto, è stato che abbasso il volume Niente, aspettiamo che entri qualcuno Niente, aspettiamo che entri qualcuno raga perché Momentaneamente siamo in zero Siamo in zero spettatori Quindi niente, aspettiamo la live Ok, perfetto, tre spettatori Tre spettatori, vabbè Tre spettatori magari Non tre spettatori, però Vabbè, vabbè, vabbè Ci sta, tre like, gg Raga, chi vuole entrare in live? Può eh, volendo Può, 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 può Ciao, ciao Ryan Grandissimo che sei andato in live Ciao broschi Aspetta che condivido un po' ragazzi la live Ok, 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 ok Ok Perfetto Perfetto, perfetto Allora, ciao bro, ciao Leo Ciao fra Grandi, 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 grandi Grandissimi, grandissimi Da! Ciao! Allora, ciao! Ciao! Senna perfetto perfetto raga allora dai vai vai ciao raga ciao 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 fabio ciao se volete entrare in in live ovviamente potete bella la canzone grazie però grazie grazie ryan allora pensate che mi sono sciopato pure il pacchettone si io dai dai forza leo se vuoi entrare lucia problema che giochiamo ecco ti qua ok sta entrando perfetto perfetti aspetto che entri perché c'è tutto coso pagato non lo so e di notante ryan di music e adesso non so quale mettere un attimo e dicio l'ascesa del divoratore che non mi piace tanto giusto qualche carina però metto gru saxi c'è a me piace piacciono un po insomma i suoni insomma cose così vediamo è anche volevo il pacchetto dai fra magari non so forse non so magari forse domani te lo puoi scioppiare a me dice uno spettatore prossimo è un bug perché c'è siete in tre minimo poi magari entra anche i miei amici non so non so abbandonati video già nel gruppo così appena entri fra chiamo forse ok va bene ci sta dai ci sta forza raga forza forza entrate entrate condivete link io condiviso con tutti i miei amici ok un amico anche anche già visto bello eccolo qua che è entrato signori perfetto tra basso un po' il volume della live perché se no si sente nella live sottofondo perfetto va vai vai è bellissimo il pacchetto eh lo so infatti me lo so mi sono comprato un bel po' di e-box copre su pure ciao sono di 10 centauri ciao 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 centauri grazie mille di essere sentati in live mi rosso il iphone ok si vai domani forse ok gg ciao ciao br no veramente no infatti infatti molto la bianca tutte le altre invece me ne piacciono le altre invece sono questa se metterà col cappuccio senza cappuccio in acqua con il cappuccio scuso un attimo la live ragazza al telefono chiamo no a me con il cappuccio secondo me a me non piace un'altra schiena metto dai metto questo qua mi piace chi giuca se avete cosa non mi piace si può essere bellissima ah sì anche a me piace questo dai carino a me non piace raga che c'è tipo scritto il set e hashtag hashtag ram punto punto asia che c'è non mi piace sta roba al pacchetto si però tutte queste robe qua stile anima stile l'asta e di tiktok no non sapevo perché io non sono mai su tiktok non sapeva bene avere con a il no vero che non ha il fatto non sono vocevano fare l'evento non so come si fa cioè così non posso nuovi aspettate che metto un attimo gangnam style pensate che metto un attimo i commenti ok ciao allora scusa se non ho visto la live di non stamattina scuola ok va bene vai tranqui tranqui quale live no no ma no in realtà non ho capito patava intendi la live di ieri o la live di adesso perché adesso non ho capito no comunque stamattina non ho fatto live live di stamattina no fra ma stamattina ho fatto mica una live no non l'ho fatto la via o la mattina non faccio male ovviamente perché non avevi spettatori sono tutti a parte che anch'io sono a scuola ma a parte con le sommette che una volta non sono a scuola non sarebbe nessuno boh frasciali tu parco 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 moriamo parco te lo dico però vabbè tra l'altro acqua ok rapide rischiose va bene mi piace tra l'altro adesso credo che adesso domani sbaggheranno anche la missione epica questa qua che è tutta baggata non capisco perché è baggata quella che si chiama incendere le strutture domani con il colloquio quella epica si è malagata perché a molti non so forse no ma c'è il bag ma a molti c'è il bag che non gli dà la missione fra ma ci c'entra la mia moglie postano comunque faccio gente attento a però anche per un gioco un po' pensi di andare via da sto tipo dovrei anche io qua ma franti canzone a roma mi dico fa fa meno su un attimo provare a smi mette ok per provare gagnam stai come se vuoi fare un testo stai faccio per me che si mangia il mais di questo che sta qui dopo lui ti spara ma come sì perché se non mai se lui ti spara è vero lol ah no in che senso ma ho capito lol lol raga ma pensate che vedo se ci sono commenti il mio secondo il mio secondo che sto in una live la mia volanda quattro speck con il grano turco perché dovevano a cacchio sto guardando la live ma che cacchio si calmatevi vabbè con una r contro un pompa perfetta mette un'altra skin no fra facciamo partire no fra facciamo mica parti sei pazzo facciamo mica parti non partirea ma quanto bella ciao vedo esatto esatto edo se vuoi venire a giocare tranqui tranqui bene comunque tramite le omette pronto aspetta che mette una skin comunque no cioè non mettiamo non facciamo mi schiava mi dispiace no in che senso caci c'è non possiamo farlo portare nome infatti facciamo un po di c'è così credo che la gente si diverta a vedere non so partirea facciamo una bellissima pubblica roba niente notifiche e franza privati siamo in due siamo noi magari edoardo se entra adesso in raga se volete facciamo server pirati che si trova e ma non ha senso farlo entra i servizi privati cioè non ha senso se vuoi verso le 6 cosa verso le 6 ha scritto mi sa che ha scritto fabio è anticipato no se vuoi verso le 6 15 vengo che va bene fra allora facciamo un'altra partita sempre se non moriamo eh ok va bene ah ok ok adesso fra andiamo a scogliere che adesso non siamo sotto il bus quindi possiamo andarci tranquillamente perché prima eravamo sotto chissà quanta gente c'era tra la cassa tra che eravamo sotto la linea del bus non c'era chissà quanta gente ci sarà stato allora vediamo vediamo 23 messaggi vediamo chi è scritto vengo sono da pad ah finalmente grande fra se vieni sei un grande perché da pad cioè prima dal computer senza offesa però laggavi un po' poi dopo non eri molto c'è nel senso eri un po' svantaggiato possiamo dire che non eri come come non sei come da pad quindi gg ok allora ragazzi adesso per un po' non leggo più commenti perché sennò che metterai a dare i commenti perché sennò è un casino non riesco a giocare magari qualche volta il leggo ma difficilmente possiamo dire non così no non posso venire a posto faccio una cosa da prendere la cassa mitica noi vado a prendere un'altra cassa mitica e la pesce dove vado io ci vediamo fra andiamo io vado qua vabbè è l'unica anche se non è molto una roba accettabile andare qua nel senso che non c'è l'unico non c'è la io vado qua sono fortunato tra un po' io devo andare dove sei andato? eh per lontana perchè sono andata avrei stato là? perchè? no c'è 44 persone fra eh ti avevo detto devo andare là a scogliere ci sarà un team da me no perchè mi sono fatto lo scendino ci sei una è grande dg eh raga scusate se non leggo i messaggi eh vabbè scusate se non leggo i messaggi però ora sono impegnato a giocare dopo li leggo tutti li leggo vediamo oh bello tasci però leggimili tu se vuoi i commenti perchè adesso io non posso ciao Massimo sono Samuel ah ok ho capito chi è va bene ciao Samuel ma si in un nuovo video ok scusa scusa vabbè dopo li leggo io vanno da quanti messaggi dopo li leggo e raga scusate eh se riesco a killare sto tipo perché trovi lo spaz scusa per la parola ma ma dai ma pure la r normale ma io mi dissocio ragazzi mi dissocio istantaneo scusate per la figuraccia ma io mi dissocio eh ok fra se vuoi gioco tra noi vedrete perché devo finire il compito qua va bene va bene va bene va bene va bene è già il massimo video ok no fra comunque c'è il nuovo video codice creatore stepney codice creatore stepney io non posso fare la live vabbè mi dispiace lo so c'è senso giocare o farla guardarla in quel senso intendo fra le secche di 2 euro non mi posso prendere la crew vabbè mi dissocio vediamo chi ha scritto non me lo ma che non me lo ma non me lo fra scusa non me vabbè non ho capito scusa fra non capisco non ho capito non ho capito non me la non ma fare eh scusa fra non ho capito ryan ma si dimmi fra cosa c'è non si ma non ma ma spazio la lobby no perché ho fatto così ok adesso andiamo safe si si aspettate un attimo raga allora allora raga mettete like condividete fate tutto che vi è scritto e oh è vero ma massimo 200 wow come è e ce n'è bene volevo dire che non me la fanno fare aaaaaaah ok vai massimo perché non parli? che è successo? ci hanno mangiato la lingua? ahia ma credo dove andiamo fra? guardo sbaglio ragazzi dato ok raga scusatemi eh è da un piccolo problemi tecnici I puoi rinvitare preso che è fra Ti vado come ecco Cosa hai detto? No mi dissocio Ok però cioè vieni qua Cioè vabbè se vuoi mettere i tuoi amici ok però Però non è più di 5 Esatto no no Cioè non più Dobbiamo essere massimi in 4 perché In 4 o se no Mi si piacciono Eh dobbiamo spedere qualcuno perché la live non possiamo farlo Ok sei unito ragazzi Chi è? Eh Edo Ciao Fra Siete qua Madonna mia ma dov'è? Bella bella Allora adesso finalmente sono da Lei comunque c'è un problema Bra ho problema io Ho problema io questo tipo Ho problema io questo tipo Madonna ma eri morto Fra Ma questo che mi fa mangiare niente Ma è rimorso anche tu Sì Ma cosa ma sto tipo qua ma che era E' un abissimo solo che non ho colpi da mitra Vabbè niente Facciamo trezzetto Eh però è innoio però Cioè se dobbiamo trovare così i player Eh infatti cioè noi arriviamo sempre facciamo Uccidiamo sempre un botto di gente Facciamo sempre la vittoria Cioè faccio qui prende ogni giorno la vittoria Adesso non Adesso I live facciamo la figuraccia Dai Sampartita dobbiamo riprenderci Eh Lei ho metto Immagina Da soli senza live Facciamo un debatto Con la live Eh ma è normale Perché abbiamo l'ansia Sì Dai abbiamo l'ansia ma sai Poi dobbiamo anche poi ci parliamo anche con Appunto È un po' difficile Alive Vabbè ragazzi non leggo i commenti Scusatemi ma non li leggo Raga iscrivetevi al mio canale Sì Iscrivetevi al canale Ve lo lascio in descrizione raga Sperate Eh non faccio tanti video perché C'è Ho fatto un po' di C'è Come giocare in trio Ok Ok Guardate che ti metto il link in descrizione al tuo canale Sì sì grazie E niente fra come che ti chiamavi Ok Eccoti qua Allora Condividi Copia link Che è il tuo studio Cioè ho fatto vedere come Come si fa a vedere Dentro alla sezione Non so ne riesco a metterlo adesso Vediamo No raga la metto Adesso non posso metterlo però Appena cioè Alla fine della live Vi metto il link in descrizione Ah Bra Ma se ti fai la ricarica Mi chiede Il pastino Tra il passo non posso Intendi me Eh sì Ma non è ancora Il pasto a taglia No Tutto un fan Ah un fan Fammi vedere Adesso Se mi la regalo Il prese Fra Mi hai regalo Un ballotto da giocento Fra Ah ok Ho capito Scusi un attimo Ejup Ma no fra Non posso perché Devo pagare 9 euro Puoi regalare la sbattaglia E poi anche Avere una Una scatola a regalo Però fra Scusi Non so pagare 8 euro Per Solamente per regalare la sbattaglia Quindi se vuoi Se proprio vuoi Ti regalo un balletto Da 200 Visto con 200 v-back Però ovviamente Ma per i fan La faccio tutto Allora Prego Ho il fan Ah ok Vabbè Ma perché Certo Io rispetto Le persone No ma infatti Ragione Cioè Soprattutto Soprattutto I fanni No ma hai ragione Ok Oh E tu ci sei Edo Edo A che piaccia La mia skin Eh carina vai Però Non è Con il torneo E non riesco A guidare le cucchie Ah ok Vabbè Va bene Ok Io vorrei Prendere l'accesso Non vanno Qua so Prendere l'accesso Perché Va bene Non l'ha mai presa Non l'ha mai presa Tu intendi Sì sì Ok vabbè E Leonardo Edoardo Forse Comunque va bene A cesto Se vuoi E tuo Edo Anche se ne vorrei Vabbè Fra Io non l'ha mai presa Certo Anche io No tu l'hai presa qualche volta Mi so Vabbè Comunque fra vai tu Tranquillo vai tu Edo Lascia Ho trovato Bazzucco Oggi Bazzucco Vabbè Dalla edu dai poverino Non l'ha mai presa Certo Perchè mi riesco a prendere la mitaglietta Devo triggerare Ok No 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 Già Già tranquillo Fra è arrivato Un tipo Io ho dato il lanciaraggio Edo Ok Mi ho scondato Uno Ma non ho tanti colpi Vediamo se Da colpire la mitra Ho qua i simili doti Che fado pushare sto tipo No 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 Mi dissocio Spero che non sia Spero che sia un bot Sì ma è un bot No mi dissocio No Totalmente mi dissocio Ok Ok Ma Ma Vabbè Sta scappando Non mi dissocio Di niente Vabbè 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 Abbiamo un attimo i messaggi Al volissimo Allora Ciao 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 Samex Ciao Ciao E'venuto nella live E'venuto nella live E'venuto nella live E' ecce Vabbè Ci sta Lo so No, io non posso fare Vecchia non c'è la donation Cioè, non la posso ancora mettere Devi avere mille iscritti per mettere le donation E fra, se non hai mille iscritti Non puoi mettere nelle donation Nelle, sono ritardato Nelle, come si chiamano? I post Cioè, devi arrivare mille iscritti e poi mettervi tutta quella roba, la credo Cioè, devi mettere 40 cose per Vabbè, dai Vabbè, dai, ci sto Beh, sì, ci sto, perché Le donazioni credo che iniziano, anche gli abbonamenti Credo che siano dai mille iscritti Però non credo che gente da mille iscritti Metta gli abbonamenti, perché Se abbonerebbe uno Secondo me, se qualcuno ti vuole donare Ti donerà un euro Infatti, appunto Chiamo che se tu hai proprio mille iscritti contati Non ti conviene mettere le donazioni, perché A parte che costa mettere le donazioni, perché Comunque costa un prezzo iniziale Poi dopo Cioè, ti donerebbe una persona O si abbonerebbe una Se proprio sei fortunato Pure qua, cioè Ho quattro persone, buoni Ma sì, infatti, cioè Nel senso Bisogna arrivare comunque a mille Mille iscritti, ragazzi Beh, intanto pensiamo ai cento Per adesso, perché Mi iscritti poi Sarà un traguardo Cioè, sì Sarà un bel traguardo Ma soprattutto perché Sbloccherò un sacco di cose Riguardate per il centro Però adesso che ti sto pensando Oddio Problemi tecnici? No, oddio Adesso che ti sto pensando Anche se fai le donation Dopo ti donano Allora, cioè Non ha un po' Un po' di seno Cioè Ah, sembro Sombra che Non hai pagato niente Ma sì, infatti Alla fine Non ha molto senso Però, beh Comunque Allora Era cambiata delle parti meccaniche Che mi creavo lo scaracchio Eh, come mi serve Eh, ma io mi creavo lo scaracchio Lo scaracchio è più importante Eh, anch'io lo scaracchio Guarda Scogliacchio Scogliacchio Scendore Lo tengo Me date E cinque parti meccaniche Eh, fra No, mi servirebbero anche a me Avrò Voi, io so Mi prendo questo Che mi creava Il pompa del nonno Almeno 4 4 Non vado a prendere Guarda Sì, mi crea Il pompa del nonno DG Dai, mi crea Il pompa del nonno Tanto lo scaracchio Si fa comodo Però il pompa del nonno Tanta roba Tanta roba Tanta roba A me piace Più lo spasso Cioè È bello Il pompa del nonno Lo usavo Però, cioè Se hanno rimesso lo spasso Spacco tutti Ciao Ma neanche da parte meccaniche In una barca Ok, ecco Vabbè, è una Cioè Pochissimo Per una barca Ora In questa barca Ne ho trovato Ragazzi A mille iscritti Se donate il rosso Non possono donare Fra Non è ancora capito Lo so La fratta Ho detto Ho fatto Avremo Le donazioni Ah, beh Pochissimo Poi se Raggiungerò I mille iscritti Perché non so Se aggiungerò I mille iscritti Ma Ma neanche Delle parti meccaniche Mi danno Ste auto Ma una Dai un'altra Ho un socio Fra ne ho preso Tra solamente Fra prendi Questo pompo Così Ce lo fai spasso Ma no Ma lo spasso Non posso farmelo Ma preferisco Il popolo Vediamo se ne trovi Stamacchia Perché è ormai Difficissimo Tra le parti meccaniche C'è Riciclato Ocale lui Sembra impossibile Sì appunto Ok Prendiamo l'arma Posso usarla Io perché Beh Fara la prossima volta Stavolta Vorrei io Sinceramente Fara Andami Raga Andami Safe Venite 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 Ok C'è 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 Guardi I messaggi Guardate Voi Guardate Voi Guardate Uno di Voi Guardate Ok Perché C'è Il building Va bene Ricordo Poi Messaggi Ma non c'è Sonni Nuove Spettatori Vabbè Digi Dai Forza Condividete Dai Raga Condividete Condivido Anch'io Con Chi Pascio Pipi edu sei edu vabbè io mi posto un attimo ok 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 vai abbiamo pure il pompa del nonnino ah raga rapidi in safe allora arrivo da rapide che così il creolo scaracchia però è stato un po' di mini e si è giù ma è d'ordo e live si si è d'ora ma intendi no si ho capito comunque è live no no allora vediamo il regno delle patate il regno delle patate vabbè sembriamo di farlo smetti a ti prego sombriano i cretini ti prego smettino vabbè micro il regno delle patate un peccata ma c'è che dopo su un player questo tipo madonna perchè ti ha spaventato un po' eeeh no perchè creavo questi passi c'è chi vuole di un pombo no però posso io le parti meccaniche però per favore dopo ti li do le altre dai mi servono a me le parti meccaniche e tanto guarda ci sono 44 milioni di auto eh vabbè dai va bene va bene va bene vabbè si evidente ce ne sono tanti di auto eh rapide è buonissimo per farsi le parti meccaniche ma è cassare leggendaria? ah si no ma dai che schifo madonna che sfortuna fa schifo con l'arma si trovavo le scar leggendaria eeeh magari scar leggendaria ah ok gg no e allora li prendo io sto shhh dai due due ancora me ne servono forza dai macchina ok aspetta un'altra dai macchina dai che sei quella buona no no mi sa proprio di no mi fai ancora insieme a me di più vediamo sta macchina dai please macchina ok è l'ultimo vai ah me l'avevo già una sette allora boh vabbè comunque vabbè scaracchia e va bene così fra non puoi dire che fa schifo il mio lutto no vabbè si è bellissimo ah ma l'usciglione è tuo allora no lo ho fatto io così a farlo ah ok no allora me lo faccio posso prendere anche ok me lo prendo io ah no 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 ok se no no ma possiamo vincere un mio amico? fra no in live sinceramente vorrei che fossimo solo noi però vabbè sì e voi sì vabbè mio amico oh che cosa che è quella roba là? non mi ero amico di fervasco vabbè dai se vuoi sì ah gg fra i dogg vai facendo prima sta partita però dopo l'inviti sai io lo sto meritando però non mi sto meritando nel porto andiamo a insegnarmi in saffè oh Sì de quarantena ah no mi distorte hu enesawé de caiauenna when ah no de quarantena che 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 questa canzone? no non lo conosco mai sentito in vita mia eri uscita eri uscita io vedo se c'è il boss e tino veramente la guglia se ce l'ha fatta perché c'è il boss nei casotti ok ma esce il loro aiuto al basso la francia il boss ma come c'è il boss sentite fatti esco dalla casa a me dai dove e dove fra dove sai edo ok e dos cerca di venire in sì c'è ancora si sia che c'è il boss alle prese nato comunque il fatto che c'è già mai ma che lo vuole che ho preso in questa vediamo i messaggi sì io conosco strastica tocca ok bravo gg non si che sa più poca gente c'è una banana ma cosa la banana di tre di scelta il tipo dopo andare il high ground 35 e 24 bianco dove caricare e fra un team intero no ma donna santa meno sfondato ragazzi mettere un attimo privato cioè pubblico no fra pubblico no pubblico e vabbè dopo 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 fra che si vogliono pusciare a ciò che secondo io non ce lo fai così questo sì mi stai sì di cipro bella devo fare gli scendoni oddio no 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 male ma donna mia è vero è sciottissimo dai e giù dai giù dai giù non dobbiamo finirmi a vedere la posizione finale numero e invece la vedremo 100 per cento qua questi fight qua vanno sempre a finire male ci scommetto hanno sempre a finire male host i fight ci posso fare niente aspetta fra non posso curati già sono male ha ucciso il tipo ok bravo 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 però cerca di prenderà ok cerca però di 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 restarmi vabbè portami safe se no cerca di restarmi fra sarà 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 grandissimo comunque c'è sul tipo non ce l'ho ricredito perché si casico si muore sempre però non possiamo più riavviarlo raga ed ora possiamo più riavviarlo dovevamo giocare senza eto raga ok bravo che ha ucciso il tipo perché non era scarso niente ma c'è ancora il tipo grandissimo giù no era nel due non potevo far niente però non potevo far niente ci credo ci credo ma sono in trecenti e lo scappare fra devo scappare sì sì fra mi puoi dare un attimo un attimo aspetta frate devo scappare si tipi poi cammini per un sito ok aspetta guarda la pezzo madonna o sono ancora nostri tipi cosa sta la sua se la storia ma stavamo dal video non c'erano di trovo come trattino vuol dire che siamo c'è su due timidata che si possono anche dei pro non mi sono potenti mi spavano con di quell'arma che anche l'anno leggendario ok vabbè io c'è anche matrimonale contro che fa c'è tre che spavano io conti con uno con un fucile che non fanno fra ma no no ok mi pare che ho sentito dei passi sono in bagni di arno tra e si una no un attimo sopra perché sapete perché sono in ansa adesso comunque vai a vedere su sulla live quanti spettatori siamo quattro quattro no fra ora non posso rassegnati ora non posso ma quel tipo la questi fra sono degli spammoni non dovevo farmi sentire non so sono ritardato porca cazzozza niente niente abbiamo perso l'unica box armi ma verrà tanto sei già giallo so davvero l'unica box assisti casi è un po quando se un po nella melma poi non ha neanche più shield da dare a tenere poi deve vedere un attimo che ha commentato guarda i sisti infami e affetto ma il porto ecco ora questo va bene il suo amore comunque forte ecco ai 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 no vabbè ma dai ma chi è uno da dietro uno da davanti dimote beh sei il caso adesso dammi il leader ma posso tenere il mio il leader però scusami però vorrei tenermi il mio il leader dammi il leader così metto poi lui che dopo entra il mio amico no vabbè invitalo dopo dai siamo in quattro ti sa dai per favore no dai invitalo dopo fra ma no giochiamo nei tre dai siamo il mio amico però ne ho capito roccia mi spiace fra però sarai privati e fra no perché in tre non possiamo farcela cioè fra siamo in tre capisci in tre sarai privati se volete possiamo provare essere privati alla prima ma se volete posso mettere singolo credo no no non so se si può allora mettete comunque mucca provate a scrivere mucca non credo vi faccia mettere singolo eh no no mi fa mettere va no allora no raga una cavolata c'è non ha senso perché sono solo noi no niente niente non mettere la password perché non possiamo mettere noi contro non c'è no fra non si può edo c'è non si può no c'è ma reale c'è l'unica se dovete possiamo fare il laboratorio della battaglia c'è laboratorio no fra perché il video di youtube voglio della mia live laboratorio della battaglia beh facciamo laboratorio vai così ci facciamo un po tra noi ma fa facciamo facciamo le gare dovremmo da c'è da bruggiere fino al lago beh ci sta dai andiamo ora dobbiamo tutti andare a prendere un veicolo dobbiamo prendere tutti un pick up ok c'è il pick up no no io squadra ok io squadra due e uno squadra uno io vado in squadra due io squadra uno si tu non fare niente jupp allora prendiamo tutti il pick up prendiamo una bella Lamborghini no no pick up perché la Lamborghini fuoristrada va pianissimo pick up no no frate non dobbiamo andare fuoristrada eh si frate dobbiamo andare fuoristrada che cacchio è ehm ok mettete brughiere io sono entrato dentro brughiere io sono andato sterno al centro perché fra ma siamo tutti in squadra diverse comunque lo so ok ok io sono andato a tornare al centro così vado solito a prendere ok siete tu cioè siete già in lab ma perchè sei mi io sono in lab fra perchè io sto io saldando saltando un botto lo so è normale fra così noi ci facciamo prima di trovare i veicoli ok io ho un pick up ce l'ho ho fatto una Lamborghini ok vabbè se vuoi prendere una Lamborghini io ti consiglio il pick up ok no io è la Lamborghini andando a Lamborghini andando a Lamborghini andando a Lamborghini 4 ok io ho tanta benzina quindi basta la benzina fra io voglio fare un casino vai botto no no botto no botto no eh fra e perchè avevo uccidito il mio fra botto no dai botto no però vabbè dai allora io ci sono pronto eh se tu hai la Lambo beh vabbè arma leggendare mi dissocio così eh una eagle andiamo tattico e botto alleati in caso di estreme necessità vabbè provo a saltare così un scar ok vai prendi tu il pick up lì allora no no così abbiamo una gara di pick up edo però non c'è in si c'è edo vai a prendere un pick up anche tu io prendo una Lamborghini vabbè facciano i due facciano i due e me il Lamborghini comunque raga l'aggiornamento di domani mettono mettono tipo le città selvatiche quindi diventano selvagge le città insomma ci sono un sacco di robe allora vieni qua e jupp come selvatiche sei fra selvatiche dobbiamo andare solo in strade cioè possiamo andare solo nella strada vieni qua jupp no col col pick up fra la pick il pick up non la Lamborghini pick up pick up ho detto Lambo ebbè allora vado a prendere gli occhi la Lambo allora è la una si l'ho visto l'ho visto però quanta benzina c'ha ci basta se non va allora sai cosa faccio? vado un attimo a fare benzina ti faccio vedere eh anche io vado allora ti faccio vedere che c'è un posto dove c'è una tannica vieni qui seguimi devo tornare a tornare là però eh perché io mai so cioè io sapete ragazzi che sono talmente colto che so pure il posto dove c'è una tannica di benzina che non c'è perché non c'è la tannica di benzina al laboratorio della battaglia mi dissocio vabbè allora Flavio dove sono io? poi io vado un attimo a gatto così faccio la benzina ok anch'io anch'io vediamo un attimo la live prima allora si si spara eh si spara ma che cosa vuol dire si spara Edo? anch'io arriva gatto e che facciamo il pieno sto facendo il pieno Fra? si anch'io così siamo pronti partiamo da gatto e arriviamo direi a Amolifra per la mia rambola bellissima vedi? ok 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 si si va bene tranquillo tranquillo andiamo a gatto cioè andiamo non a gatto andiamo a Moli a gatto fino a parco fino a parco ma va bene no 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 perché non ci sono altre strade che portano a parco si ah si c'è 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 e possiamo stare solo sulle strade cioè non possiamo andare fuori strada poi ovviamente si per un attimo si ma non possiamo tagliare la strada in questo senso la se no sei già qualificato esatto cioè il senso poi adesso toccarla un attimo eh però devi cercare di me n'è stata questa è la gara si parte da gatto e anche una challenge diciamo si dai abbastanza è una challenge e una gara mi sono piazzato ok guarda qua la mia Lambo come è non so che vincerà eh allora aspetta che torno un po' indietro ok vai 3 2 1 via andiamo aiuto vabbè ragazzi non so che vincerà eh cioè nel senso tu vai fuori strada per sbaglio non si può usare il turno si ma io non te lo consiglio perché perché a parte che vai alla stessa velocità eh poi a parte quello poi ragazzi se ci schiantiamo adesso contro una cosa non è problema cioè non vuol dire andare fuori strada però no fra si è un po' andato a verità ah no e vabbè ovviamente se il vicolo si ribalta si può andare a a invertirlo perfetto eh mi hai un po' staccato fra però anche tu basta un errore poi non so se giochiamo con la benzina eh perché io ho già perso un terzo fra ma non devi non ti consiglio ad andare con la strada hai sbagliato strada fra cioè no in realtà puoi arrivare anche da la però è più scomodo fra hai sbagliato strada hai sbagliato strada hai sbagliato strada hai sbagliato strada come tu vabbè ti aspetto appena ti vedo ho messo il ping io eh guarda guarda la minimappa appena ti vedo in quella curva parto perché sennò effettivamente non è molto giusto vabbè perché non non vedo non ti vedo dove sei appena e devi andare per la casa devi passare per il distributore di benzina quello brutto vabbè io vado fra scusami però siamo nemici ma facciamo il benzina no 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 facciamo al prossimo che c'è a però aspetta arrivi facciamo al prossimo al prossimo eccomi eccomi ecco lo ti vedo ti vedo ma sbagliato strada anch'io forse ah no 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 sbagliato strada perché di qua c'è la strada ma aspetta mi ti vedo aiuto ah adesso io devo andare di qua forse se mi aspetti questo è meglio ok eh io sto secondo la strada rega eh perché questa è la strada in realtà una volta era la strada questa adesso poi io entriamo la prima strada c'era una strada forse migliore però vabbè di qua ho sbagliato strada ok c'è un pollo ma non mi interessa ma del pollo qua si può andare fuori strada perché non c'è ma c'è il sentierino vedi che c'è il sentierino devi seguire il sentierino ecco qua c'è la strada si ho visto si ho visto il sentierino che ho fatto apposta adesso qua sbagliare sarà 100% se non mi stai vedendo ok fra mi stai convinto e io se non sbaglio all'ultimo ok poi ne facciamo un'altra quando abbiamo fatto benzina bravo non ho capito fra io sono arrivato ehi fatti ti ho detto non ti ingannavi nooo c'era un camion che non è che era invisibile ha trollato un sacco vabbè ce la faccio e ho vinto fra no non ho capito la strada io eh infatti c'è io infatti me la sono studiata la strada sono arrivato a parco testimoni che c'era la live faccio ora benzina e ti aspetto allora devi fare adesso ti dico dimmi dove sei aspetti che faccio solo benzina eccomi ah ok sei arrivato però fra la gara l'ho vinta io ah ma sei arrivato da un'altra strada allora tu sei arrivato da quella strada ho capito capito ho capito cosa hai fatto allora vai che vincitessi io ho vinto grande grande ciao massimo ciao bro ciao ciao fabio un altro messaggio tu mi saluti ciao fabio ti sono salutato adesso ciao fabio ok allora a presto c'è essere leggendario inutilmente ma andiamo adesso pantano pantano dov'è eh si si teoricamente si allora adesso ti dico la strada fra adesso ti dico la strada così non ti sbagli che cacchio hai fatto ma madonna vabbè fra ti dico la strada allora ascolta vabbè ascoltami bene ok no 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 vieni qua vieni qua al distributore vieni qua hai distrutto questo la macchina ma c'è edo ah ma c'è edo e fra edo prendi un no fra prendi una macchina prendi un lambo facciamo una cosa edo vai a pantano e dopo che dopo che sei andato a pantano ci aspetti e intanto a pantano cerchi qui la lamborghini e così dopo facciamo la gara tutti e tra le adesso facciamo solamente noi due perchè è un casino se no ma mi hai rubato la lamborghini fra mi hai rubato la lamborghini o no fra a me mi serve il pamburante vattelo a fare no però la mia lamborghini no la mia questa e la mia? non lo so ci sono problemi tecnici ah ecco 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 dov'è fra? guarda vieni ah vieni l'ho visto l'ho vista in realtà era la tua però vabbè no è la tua fra ok 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 si arriva via allora ma fra è distrutta fra ti dico la strada allora adesso vai ma non è distrutta ma non è distrutta basta sono qua dei colpi vabbè allora eh eh aspetta vai a sabbie c'è che a sabbia pantano allora fra dobbiamo andare prima di arrivare a soborghi ma io so la strada fra aspettami allora dimmi tu la strada dai se capisci allora soborghi soborghi sabbie siepi e poi pantano ok no si fra si 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 ok esatto allora vieni qua dove sono io ah ma Edo mi segue ok ho il partner vieni qua dove sono io aspetta andiamo ok andiamo dove c'è la strada principale ok va bene arrivo eh Edo sta salendo con me tre tre due no vieni qua vieni qua tre due uno via mi siamo venuti un po' prima però vabbè vabbè dai ok allora ci credo mi spiace mi spiace oh sorpasso forse lo so oh oh my god sorpasso sorpasso ma io non siamo in vantaggio ecco cosa serve ma cos'è cos'è la visuale che si è buggata ecco cosa vuol dire cavolo fare cavolate in giro per la mappa quando non vuoi fightare vincere le gare perché conosci tutte le strade ok ok la sabbie poteva adesso deve andare verso siepi tra allora fai un pit stop a sabbie per il distributore per fare benzino ok deve arrivare a full di benzino va bene stop pit stop aspetta eh tu fai dove vuoi no perché mi sei tanto io do dai non mi dare e anche a me mi ha alzato la macchina ok adesso già pronto tu quando arrivi quando arrivi basta che adesso sei full io sono partito alla sabbie che sono full io sono arrivato a pantano come sei arrivato a pantano fra sei andato per no fra hai tagliato la strada no non sei a pantano fra so pantano hai tagliato la strada no fra era da foresta ma no no fra ma non è la strada foresta devi andare sabbie fra però te l'ho detto io eh sobborghi sabbie siepi e pantano vabbè allora rifacciamo fra eh grazie dovevi dirmelo prima eh cos'è un'amica valido e beh scusami però te l'ho già detto io adesso rifacciamo adesso facciamo da la pantano ok anzi facciamo una roba andiamo qua viene al distributore di benzina che così facciamo benzina andiamo là ma dove al distributore di benzina dove c'è pietra al distributore di benzina davanti a pantano palpitante ah io ci mi so già ok vai la mi sta messaggiando dopo regolare dei commenti madonna che visuale di mert ma è domani sei tu che mi blocchi la visuale perchè come sei tu non so eh eh fra ma sei lentissimo non sono lento solo che io seguo la strada come un bravo cittadino eh siamo invece Bari wow e dai quanto sei lento ecco sono arrivato a parte che faccio benzina eh hai una nuova Lamborghini fra hai una nuova Lamborghini si perchè qua si era rovinata ok adesso prendo la tua che non è rovinata no non sarà niente Edo va bene Edo hai ragione no vabbè Edo hai ragione perchè vuoi tenendo una scassata questa Edo e vuoi venire in macchina con me Edo si Edo ah ma cos'è vero abbiamo tutte le Lamborghini è vero Edo però fai il pieno di carburante eh dalla macchina fa il pieno di carburante alla macchina Edo che bravissimo e uno ve lo deve partire indietro la mia è bellissima la mia è bellissima vabbè anche la mia per te cerca di venire un po' in modo che possa entrare anche Edo allora dove andiamo? andiamo 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 scogliere dai dai scogliere no foschi fumo io foschi ok mi piace allora ragazzi allora statemi a sentire qual è la strada ma allora ti dico io ti dico io ti dico io allora pantano seppi da grifoio sabbie svorghi parco pacifico dopo e dopo dritto fino a foschi frutteto frutteto e a foschi ok perfetto ok però che stessa sia questa pronti? 3 3 2 1 via si è partito prima vabbè dai fai lo stesso no Edo calvati no sei morti Edo dai non è giusto minnaggia a voi aspetta dai io sono rimasto un po' dietro vabbè dai che rimonto dai che tanto rimonto ma perchè ho il carburante attivo? c'è perchè ho il turbo attivo? ha il turbo attivo? consumiamo un sacco di carburante perchè ho il turbo attivo? non ho un'idea da me non dovete fare i campi carburanti vabbè vi vedo io sto raggiungendo sto andando molto veloce io aspetta voi dovete fare un bel incidente ma la strada è appena iniziata abbiamo ancora 2 km abbiamo non so se la facciamo come benzina però insomma si già credo di si ui vedo di vincerà la gara? non lo so che silenzio ok 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 io sono a sabbia cioè se non sono con voi sabbia ma che no 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 perchè che si è fermato? no edo si è fermato raga no edo perchè ti sei fermato? abbiamo ancora tanto carburante cioè io sono ancora più avanti di metà allora raga pit stop assoborghi eh appena siete full ripartite subito pit stop pit stop pit stop a suborghi c'è il dinosauro che ti segue godo brutto dinosauro arcola allora fra sei arrivato a suborghi? si è ok va allora fai il pit stop allora al distributore di benzina edo sei rimasto un po' indietro mi dispiace fra no non sto facendo benzina ok edo mi dispiace che sei rimasto un po' indietro però eh facciamo cioè lo facciamo alle facciamo dopo benzina ok ok edo sei adesso mi sa che sei arrivato adesso edo poi adesso tiriamo dritti fino a sa scogliere dai sbando fra sbando no voglio dire a fosco si foschi su sbogliato ma è l'auto eh ma è una bella cura eh eh si anch'io però godo godo che ti sei rallentato vai c'è superato c'è superato però c'è raggiunto eh il sole calcagna il sole calcagna fra se vecchi un veicolo sei morto sono riuscissimo eh ma se che hai vinto non sono sicuro eh godo ci sei incagliato dai muori ho sentito ci sto ci sto attrappiccicato praticamente dato in onda stiamo in diretta qua mentre c'è la gara eh mi sa che la vinci tu però o fai un errore però mi sa di no mi sa che la vinci tu se non fai un errore mi sa che la vinci tu eh si fra l'hai vinta tu? gg per te se ti sbandi adesso mi dissocio se vinco adesso mi dissocio dai no niente fra vinto tu gg ha vinto e giup guarda quanto sono andato ok adesso aspettiamo aspettiamo il buon ma è uguale dai fra è uguale aspettiamo le adesso dobbiamo aspettare edo edo dimmi dove sei fra ti ammazzo vabbè è vero che non puoi ok scusami andiamo aspetta andiamo a fare benzina qua appena arriva edo e poi dopo partiamo da lì e andiamo non lo so vediamo fra adesso vabbè fra allora edo raggiungici al distributore di benzina ok ci sta però edo adesso allora mi dico la strada io no no fatti un attimo che dico una cosa edo edo raggiungici al distributore di benzina prima di foschi cioè quello che c'è tra scogliere e foschi il distributore di benzina che c'è tra scogliere e foschi raggiungici lì qua la scogliere foschi non mi ricordo si vedi che c'è un distributore di benzina qua dove sono io ah se si sento metri avanti sei 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 esatto là c'è il distributore di benzina che è tra foschi e sfogliere allora andiamo a bruciare allora vi dico la strada ok dimmi ma spetta oh... mi sento esseri di chat si 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 esatto aspetta che controlla la chat se mi sei se mi senti fra scrivi in chat vediamo massimo allora o massimo mi risponde ciò a fabio si scusami stavo guardando qualcosa ok sono full dimmi la strada e allora 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 foschi non ha scritto solo allora gg ok allora allo foschi ma non foschi allora aspetta sia ben foschi poi mali malesti corso commercio d'otto grill ok perfetto ok ed ora ci raggiungi perché sennò startiamo siamo tra il distributore di tra foschi fumaioli quando mette il testo delle donazioni fra non posso metterlo perché a parte che bisogna avere prima credo gli abbonamenti se non erro mi descritti si può mettere gli abbonamenti noi non metterò ovviamente abbonamenti perché c'è mille iscritti si apponerà uno quindi non ha senso al limite cioè ma limite se proprio metterò i gli schiamano vabbè noi iniziamo vai uno no 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 devo dire una cosa edo ok edo al mio amico cioè gli abbonamenti forse li farò ai 3000 iscritti non lo so comunque 3 2 1 via no ecco io tu puoi e fraude eh io tu puoi vabbè scusami dobbiamo andare fra vieni ok no ho spettato strada ho spettato strada ok allora partiamo da qua dove sono io partiamo da qua dove sono io allora do io il via perché prima hai dato tu 3 2 ando via vedi che parti prima però barone no ho spettato 3 2 ando via tu scena di fare un sorpasso intelligente come così no non mi supererai mai sono sempre più contenta non si faccia così no mi sono rallentato e basta dai che sbagli strada e no ha sbagliato ha 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 sbagliato Sì, è sbagliato No, Fra, non puoi aspettare No, non ti aspetto Scusa, siamo nemici della gara Fra, dai Scusa, Fra, godo Scommetterò che sbaglia di strada Fra, dai Aspettami 10 secondi No Siamo nemici E qua come cazzo, qua come passo, Fra? Io te lo dico Io lascio No, non lo sai Ok, ho passato, però guarda, ho perso pure 5 secondi Perché dovevo Ho perso 5 secondi perché dovevo passare per di là E adesso ti ho lasciato pure il passaggio libero Perché c'erano due auto che non ti facevano passare Quindi, guarda Eh, ma perché io te l'ho smosso Il coso, là Ok, io ormai la so memoria fra la strada Io, ovviamente, ne ho troppe delle strade Di 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 Fortnite Battle Royale Mamma mia, come ti ho superato Non mi hai superato Hai tagliato No, fra me hai tagliato No Ho giato un po' di turbo Ma non hai più benzina, lo puo No, c'è ancora metà E io sono furbo e non vado da là Barone, no, fra però sei un barone Cioè io ti aspeglio Sei un barone Sei un barone, fra sei un... C'è un barone perché sei un barone Non sei corretto perché Tagli la strada sempre Ma attento adesso arrivo prima perché comunque Sei un barone perché tagli la strada Adesso Adesso non le faccio più le gare con te No Però sei un barone, scusa, mi tagli sempre la strada Cioèестно Non è che silica Guarda mi ha superato Buon, sono arrivato io prima Ho vinto Eh, appunto Ecco ho vinto Fra mi viene a giudere con la L'auto Che devo andare Massimo All bene, ciao Ciao bro Bru aiutami Ma hai detto ancora nella macchina? No Vero che ho franti salito GG Vabbè dai Facciamo un'altra gara? Cosa vuoi fare fra? Oh Lo so Faitiamo Ok va bene Si dice fightiamo Hai ragione Hai ragione Fightiamo Dai allora Fightiamo però Non la prughiera Perché io non ho neanche delle armi Doveva fare mazzo Così facciamo un fortino Ok va bene Facciamo un fortino Fortino versus fortino Va bene Arrivate full di tutto Tanto i mazzi si fanno Veloce si fa Esatto Ci danno un sacco di mazzi Le cose Soprattutto le cose piccole Sì Danna poi adesso con la Tipo io In una parete Ho fatto 200 di mazzi Più o meno Cioè 150 Facciamo un fortino Uno ovviamente può fare un fortino Come gli pare Ti drappi pure l'oro Ok io sono Cioè sono a metà di mattoni A metà di Legno No vabbè Ciao Le cure valgono Sì sì Ma io penso la mia Un po' Vabbè Se la trovo io Cosa dobbiamo Questa non mi spara Adesso Fra Ma no Volevo Ma io c'è Bota Alleati No frano Vabbè sì No li butto Adesso li ho buttati Fra Se vuoi Lui c'è Le calzoni Però non vuoi Ne avevo 5 Ma li ho buttati Io sono praticamente Full di legno Vabbè dovrebbero bastare Fra poi Servirò un po' di Di mattone e ferro Soprattutto con ferro Eh anche a me Adesso vado a prendermi un po' di ferro Di ferro da stiro Soprattutto con le macchine Vabbè il mattone Allora vado a fare un po' di ferro da stiro No Vissato Vediamo che ci sanno le macchine Ma no Ma le macchine D'avranno pochissime Ma che andranno pochissime Fra E' buon Posso far fuori Sto Stro Vabbè Facciamolo Come si vuole Vabbè Inferno Io non posso Bimbar Tanto La posso Buildare Tipo Quattro Pareti Soprattutto Lo server Lo sai cosa Soprattutto Dove sei fra Comunque Giù Dove sei Non lo so Una casa Molto grande Molto spaziosa Ma dove In che luogo Cioè Brughera Ah ok Brughera Brughera Perché No niente Niente Allora Andiamo Andiamo Fra Non mi sparare Dai Fra Ci facciamo Il fortino Vai Vai Il fortino Se tu Vuole Ah ma Mi sa che è Edoardo Sai Si è Edoardo No Però con il Ah no Che ce la faccio Fra Mi C'è Il ferro Mi ha finito Adesso Edo Mi da un po' Di ferro Grazie Vado Sempre Alle tre E' Sa un po' Per E' 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 No fra vai via Dal mio fortino Che è andato Il mio fortino Ah è un po' Di ferro No Zero Proprio zero 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 L'ho usato solo Per fare questi Building Ti giuro Fra io sono Full Ma gg Wow Questi Tanno Tantissimo Quelli Tipo i pali stradali Ti danno un botto Boh E' Anche Le Portrone La Soprattutto I pali Sti danno un botto Ah capito Con le Grandive Della Luce Ok So Full Di Tutto Ciao Dove Ne Potresti Stare Boh Tra Noi Tra Il nostro Fortino Cioè Da qualche Parte Tra Il nostro Vorrei Una Capra In Casa Mio No Mi Dissocio Pure Io Eh Sì Siamo Con In Live Vabbè Facciamo In Live Bella Massi C'ha Fraz C'ha Frazzini No Vabbè Anche Se Non Sa Che Non S'ha Più Live Vabbè Ho Fatto Il Pise No Mi Disco Ma Cos'è Fatto Fra Che Pisello Hai Che Pisello Hai Fatto Ma Seriamente Ok Adesso Devo Mettere No Il Velociraptor Dai Però Eh Ci Sono Anche Quelli Sono Aiuto Sette Vediamo Che Ha Fatto So Guardando La Live Dalla TV GG Fra S Un Bel GG 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 Y T Fra Ma No Vabbè Lo Guardi No Fa Schifo GG T Fra Lo Sai Che Io Sono Già Un Genio Perché Perché Non Ti Dico La Mia Tecnica Ti Dico Che C'entra Con Le Cure Ma Ti Hai Fatto No Ti Hai Messo Le Cure Nel Fortino Sì Ma Mi Disso C'è Adesso Faccio Anche Io Sto Tecnica C'è Ah Petta Io Sono Un Genio No Ditemelo Che Sono Genio Dai Un Po Mica Come Frankenstein No Cos Scala Cosetto Se Vabbè Cosetto Cosetto Mi Dissoso Cosetto Sono Frankenstein So Tutto Allora Anche Io Vado A Prendermi Le Porto No Mi Disso Ci Mi Corri No E Però Non Nel Senso Che Detto Tu C'è In Un Altro Senso Il Fortino Così Pronto Aspetta Ci Reparto Dedicato Alle Cure Ma Non In Nessun Senso Aspetta Che Bell Fortino Il Mio Però Non Diamo Che C'è Tu Non È Molto Strategico Come Il Mio Però Vabbè Mi È Proprio Strategico Però Vabbè Fra Tranquillo Adesso Tra poco Diventerà La Mona Lisa Di Social 91 Messaggi Ciao Fabiola 123 Perché Ha detto Non lo so A caso Mi Cosa Mi Saluti Niente Fra Lascia Piedere Mi Saluti Fra Ok Frazzini Bella Z A tutti Bella Z A tutti E Benvenuti Un No Confitto Dello Z Tubo Gli Siamo Qui Ma Certo Lo Zio Come Facciano Conoscerlo E Benvenuti In Dottomola Live Benvenuti Benvenuti Benvenuto Benvenuto Benvenuti Benvenuti Belli Belli Soprattutto Benvenuti 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 Che sotto La mia Schiena Bellissima No Abili Soc Istantaneamente Ho sbagliato God Anche se non l'ho sbagliato Ok Godo lo stesso Perché Boh niente Fra Fra Se spacchi Sotto Non vale Si deve Sottanto Sparare Ma Tra Se Tipo Sparicca Alcuna Ma Che Beh La Base O Comunque E So C'è Un fortino Bellissimo Anche Il Tu Fra C'è Abbiamo Dei Fortini Molto Pi Dentro E Sembra Non capisci Niente Se Entri In Labirinto Ok Mi piace L'idea Allora C'è Ci Sono Anche Le Trappole Se Fai Un Bucco Scendi Dal Castello Però Non ti dico Dove Siamo Questi Buchi L'ora Panciotto Ah Ciao No Beh Lol Ciao Ciao Dalila Ciao 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 Se Quella Di Brolo Che Adesso Capito Che Sei Allora Ci sono Dali Della Tue Vecchia Ciao Ciao Dopo Quando Gli hai Finiti Sì Comunque Ciao Dalila Dici Che Sei Entrata In live Grazie Benvenuti Grazie A tutti Benvenuti Una nuova live Comunque Sta live Che è Bellissima Comunque Dalila Io vorrei Vorrei fare Una live Anche Di brawl Però Non posso Perché Non posso Perché Non mi fa fare Le live Da mobile Quindi Cioè Una volta Se farò Una Se Io poi Farò Una live Da mobile Allora Farò Magari Su brawl Farò Anche Con te Dilla 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 Ma che Cacchio Fabio Hai dato Il nome G per Fabiola Mi piace Il tè Mi piace Il tè Ok Io direi Che Dopo Queste Quelle Che Mi son Portato Sì Benvenuti In questa Bella Live Vabbè Dopo il fight Chiuderò Live Mi hanno anche Commentato La intro Di zio Sì Vabbè Lo zio Top Sniperoni Maccheroni Player Nabi Sniperoni Maccheroni Sparatori Di Galactusoni Supportatemi Nel negozio Gatti Di Fortnite No fra Non mi puoi sparare Cioè Io sono Troppo Piccolo La miglia Gigi Partà Ok Vai Ultimi Funghetti Nella mia Scorta Da Prendere Suamente Perché Non Sto Sparando No Vero Fra Non vale Non Sparare Non Sparare Non Sparare Un'altra Arma Sempre Che Non Sia Un Fanteria Insomma Un'arma Decente Magari Non La R Primordiale Però Vabbè Ok Alte Sciglie Da Mettere Vabbè Allora Metto Stigili Pria Provediamo Un'altra Arma Se Trovo Un'altra Arma Ok Il Tattico Lo Prendo Il Tattico Allora De Mettere Sti Scildi Ah Patti Altri Scildini De Mettere Gli Ultimissimi Scildini Poi Vedo Prendere Il Tac Ok Pro Potresti Già Aspetta Ti vado a mettere Il tuo fortino Fatta che metto Solo sti Scildini No Ok Ti vengo a prendere Non mi fa Vendere Le cure Chi è Qua Dove Sai Stai Fermo No Che mi sta Distruggendo Il pavimento Aspetta Ti lascio Le cure Stai fermo Immobile Basta Vai via Vai via Non ce l'ho Il ferro Mattone Via Tutti via Non ne ho neanche Di mattone Non ne ho neanche Di mattone Via Guardatevi Tutti Ma Fra Ma tu come fai a salire adesso Scusami del tuo fortino Tranquo Tranquo Mecca sto facendo Delle No Fra mi dai Altri mazzi Eh vabbè Fratturati un casino Eh di boh No Adesso E fra E Basta Chiama Tutti Tutti Al Proprio posto Che Insomma Mi serve Dove Ed Mi preparo Solamente Delle Coperture Sulla tua Base Grazie Grazie Preparo Delle coperture Ma Perché Fai Quelle Le cose Occhi Occhi Perché Sti Mori Qua E Poi Una Di protezione Anche Per Edo Raga Basta Che No No Però Non Avvicinarti Così Non Può Avvicinarti Così Tanto Ok Chiama Qua E L'entraga Facciamo No Aspetta Mi servono Oppure Direttura Almeno Mi cedete Devevo Scendere un attimo E via Darmi Fortino E Però Ti ho Pensato Allora No No Non ti uccido Tranquil Tranquil Ma Che Stra Qua Non Sai Che Roba Beh Questo Qua Mi piace Da portare Nel Fortino Mi piace Dai Raga Facchiamo Basta Facchiamo No Spazio No Basta Facchiamo E Jupe Fightiamo Francia Abbastanza Cura Ma cosa Dici che Ne hai 300.000 Dai Fra Basta 3 Allora Vado in fortino Un attimo Tra 10 secondi Il mio fortino Tra 10 secondi Si parte Col fight Io C'ho Un'arma Che È letale Però Non vi Dico Cos'è Amiga Ma Lo so Amiga Bravo Però Non vale Di suggerle strutture Sai Vero E Aspetta Fra Devo Devo C'è Le strutture Solo In alto Quelle Che Sono Fatte Apposta Sì Ma Solo Quella Io Non vi Consiglio Neanche Di Saltare Un attimo Ma non mi cedere Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Non è che tanto Che devo prendere una cosa da corso Sotto Io sono Almasso Un po' Basso Perché Secondo me È meglio Così A me Non mi cedere Perché devo prendere una cosa Ok Io sono pronto Ho preso La mia carne Che avevo ucciso Pino Vedi che io sono intelligente Porto anche la carne Che avevo ucciso Gli animali Allora Mi faccio solamente Una torretta In high ground Io Ok Io fra Niente problemi Senza pensieri Un popolo Ha già sta torretta Qua in high ground Fra anche io Mi faccio una torretta Fra soltanto per Sparare Questa è buona Uuuuh Sto posizione qua Bellissima No Però non mi c'è La notte Non sto capendo Una cosa Sì ragazza Sì ragazza Ma sta scrivendo Di fightare Comunque perché effettivamente Stiamo un po' annoiando I spettatori Vediamo cosa scrive Allora Ti piace Ma sono la season Di brawl Sì dai È carina Però non è Mi fa impazzire Ok raga Io sono Direi pronto No io no Aspetta Ok io direi Che sono più Che pronto Una volta che ci uscidiamo Ritorniamo nel fortino Ritorniamo a fightare Ah ok Però il lutto Non si deve prendere Sì sì ma il lutto Ho messo che No fra la petta eh Aspetta che Io non mi fido Di una cosa Di sta roba qua Io non mi fido No oh Chi è che mi stava spaccando Ok beh Così perfetto Io sono più che pronto Così almeno Non mi sciocchino Io sono più che pronto 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 Oh non vale Ancora non avevo finito Scusa Scusa Bro Scusami Tu non sai dove sono Iiii Edoardo si Ma tu no Ehm Che mi dà delle mazze Eh vabbè Fra basta eh Scusami Ora Settanto Non mi bastano Un po' di mazze Allora Grazie 300 Basta Ok Ma adesso mi bastano Ok raga Tra 10 9 8 7 6 5 5 4 3 2 1 E si fighta Madonna mia No raga Non vale Buttare giù le strutture così eh No fra Non vale buttare giù le strutture così Aspetta che Non volevo buildare Tadè Edoardo non vale buttare giù le strutture così però Adesso io me le devo ricostruire No vale vale Soltanto però sopra Di sotto no Sì vabbè sopra Sì Però diciamo Meglio non Tanto non si può prendere da noda No fra i lanciarazzi non vale Lanciarazzi non vale fra No no Lanciarazzi non vale Sceso va a scendere nel fortino Devo scendere nel fortino Lanciarazzi fra non vale Lanciarazzi Cioè non valgono le armi che distruggono con un colpo un sacco di roba Non valgono con le armi eh Ma giù Perchè giù Oh C'è giù Perchè giù No No dai però lanciarazzi però non vale Però tanto adesso finisci i polpi Prima o poi finirei pure i colpi Prima Prima o poi 169 messaggi Oh ragazzi Sono in due Sono in due Dai I bot sono arrivati Dai a fare Oh godo Madonna se godo Madonna se godo E adesso ragazzi fate curare però eh Mamma mia raga Ho Ho le scorte Agici per me con le scorte Ma mia raga Dai per adesso facciamo così Ci facciamo anche questo Dai tanto ne abbiamo ancora No 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 si è preso le cure tra fai schifo fai veramente schifo fai schifo ci sono fai schifo basta e giup fai schifo vabbè raga che dir niente raga allora siamo solamente in tre bella però ciao ciao alex ciao alex ciao alex però raga ormai chiudo la live mi spiace ma ormai chiudo la live perché non ha più senso va bene ma ciao raga ci vediamo la prossima live il prossimo video non so